Per Heinz il concetto di rigenerazione urbana è assolutamente un elemento che è proprio nelle proprie corde. Questo proprio perché la tipologia di interventi che Heinz predilige sono proprio quegli interventi di rigenerazione di interi pezzi di città. L'abbiamo dimostrato con Milano, con quello che abbiamo già fatto ad esempio con il quartiere Porta Nuova, con quello che stiamo facendo con Trotto e anche ad esempio con l'esempio degli studentati per cui a fianco alla Bocconi e in via Ripamonti sono sorti due studentati che stanno andando estremamente bene e che soprattutto hanno interamente riqualificato un intero pezzo di città. Oggi appunto durante questo convegno presenterò l'esempio del progetto XTM, quindi l'Extrotto Milano, che per noi è l'esempio più virtuoso anche della collaborazione tra pubblico e privato negli interventi di rigenerazione urbana, creando anche destinazioni che abbiano una grande valenza sociale, con un intervento anche dal punto di vista ovviamente delle caratteristiche ISG, non solo la E di Environmental, quindi con la creazione di 50.000 metri di parco, ma anche proprio con la S, questo proprio perché saranno insediati funzioni di natura sociale, come ad esempio un Toto Scuola totalmente gratuito. Uno degli elementi appunto più importanti è quello di non lavorare semplicemente sugli edifici di riqualificazione, di nuova edificazione, ma con tutto il circostante, quindi proprio per far sì che l'intervento di rigenerazione urbana comporti un beneficio non solo per gli utilizzatori degli immobili, che poi appunto andranno ad occuparli, ma anche proprio a beneficio di tutta la città. Probabilmente uno degli esempi più lampanti è proprio ad esempio Torre Velasca, a fronte dell'acquisizione da parte di Heinz e della attuale totale integrale riqualificazione della torre, uno degli elementi più importanti nell'atto di rigenerazione urbana è la restituzione alla città di una piazza, una piazza che oggi conosciamo tutti, era più caratterizzata da una serie di parcheggi selvaggi, la renderemo completamente petonale con una piantumazione degli alberi, proprio per far sì che possa diventare una destinazione, una destinazione a beneficio dei turisti ed in particolare della popolazione.